Eccoci, buongiorno. Siamo in diretta, tempo d'estate, stavo controllando l'orario, sono le 10.57 e come accade ogni sabato abbiamo lasciato gli studi di Padre Pio TV e ci siamo spostati all'esterno della chiesa di San Pio. Da pochi minuti si è conclusa la Santa Messa delle 10 in attesa poi che cominci quella delle 11.30. Vigilia di Ferragosto, diciamo ecco per il mondo laico, ma domani è la solennità dell'assunzione di Maria Vergine e quindi tanti sono i pellegrini che hanno deciso di trascorrere questi due giorni, ma forse anche qualcuno in più a San Giovanni Rotondo per visitare i luoghi che hanno visto la presenza del Santo Frate di Pietrelcina. Giornate calde da tanti punti di vista, non solo appunto per le temperature ma anche per le varie celebrazioni che arricchiranno questa giornata. Nella chiesa inferiore si è appena concluso il Santo Rosario missionario appunto che precede la giornata di domani che sarà dedicata proprio alle missioni. La Santa Messa delle 11.30 sarà preseduta da Fra Raffaele Maddalena che appunto ha raccontato anche ai microfoni, ai nostri microfoni, la sua esperienza in missione. Ma poi avremo modo anche di ascoltare più in là le sue esperienze. Tante le persone, tanti fedeli e i devoti, guardate ci sono anche famiglie con i passeggini che hanno deciso appunto di venire a San Giovanni Rotondo e ci piacerebbe anche poi intercettare qualcuno così live per ascoltare le loro storie, anche perché sono qui a San Giovanni, se magari sono in vacanza sul Gargano e quindi hanno deciso di ritagliarsi questo spazio dedicato alla preghiera e alla spiritualità. Volevo fare proprio come dire una domanda al volo, sono un po' distante, magari non so se la regia mi dà l'ok, provo poco poco ad avvicinarmi, ascoltiamo che cosa, ecco abbiamo, cosa hanno da raccontarci, vediamo un po'. Scusate, da dove venite? Da dove venite? Siamo di Padre Pio TV. Da dove venite? Sì? Da Corato. Siete in pellegrinaggio? Bene. Invece l'altra famiglia da dove venite? Da Torino, è la prima volta a San Giovanni Rotondo? Venite spesso? Ah, bene. Benissimo, benissimo. Quindi come avete potuto ascoltare, ecco mi faccio portavoce, perché giustamente il microfono è un po' lontano, una famiglia da Corato, un'altra famiglia da Torino, che sono diverse volte che viene a San Giovanni Rotondo nel corso appunto degli anni, anche appunto con i bambini, la bellezza anche della presenza di famiglie che testimoniano che, come dire, la devozione al Santo di Pietrelcina non conosce confini. Bene, cercheremo più tardi, adesso sono tanti coloro che stanno entrando in chiesa, perché alle 11.30 ci sarà la celebrazione eucaristica, intanto noi vogliamo proseguire. A proposito di gruppi, visto insomma che è stato un anno difficile, ce lo siamo detto tante volte, vogliamo riascoltare un vox. I vox sono le voci delle persone, in questo caso dei fedeli che sono venuti a San Giovanni Rotondo in occasione della novena del 2018. Voci, testimonianze raccolte dalla collega Maria Antonia e quindi vogliamo ascoltare appunto, tratto sempre dagli archivi di Padre Pio TV, questo vox legato alla novena del 2018. Ascoltiamo i pellegrini di Padre Pio. Quando sono qui sono serena, mi sento tanta serenità, a volte non ce la faccio neanche a pregare, perché mi sento quella serenità che mi dà il Signore, il Padre Pio, e io mi raccomando a Lui perché Lui è quello che deve intercedere per Lui. E quanto hai sentito te da uomo che sia venuto qui a Padre Pio? Tanta serenità due giorni, ma io poi vengo anche tutti gli anni, cioè da quando sono andato in pensione ho fatto questo voto di venire tutti gli anni. Da dove venite? Dall'Argentario, la famosa isola del Giglio. In pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo? Pellegrinaggio sì, in pellegrinaggio. Purtroppo i nostri amici sono andati a fare la via Crucis, noi non ce l'abbiamo fatta e quindi stiamo aspettando qua e poi andiamo a visitare le varie chiese. E' la prima volta qui? No, no, siamo già venute altre volte. Che cos'è che vi spinge a venire in pellegrinaggio qui nei luoghi di San Pio? È proprio San Pio che ci spinge a farci venire qua. E quando tornate a casa che cosa vi portate dentro di questa esperienza? Che abbiamo percepito nel visitare lui e le varie cose che magari ha fatto per la popolazione. Come mai qui a San Giovanni Rotondo? Oggi la ragione è una visita al poliombolatorio, però veniamo sempre con tanta gioia e speranza e fede. Com'è entrato Padre Pio nelle vostre vite? Io ho vissuto in Germania e ci siamo trasferiti qui e da quel momento ho conosciuto questa figura molto importante, molto carismatica. Che cos'è che la colpisce della figura di San Pio? C'è qualcosa in particolare che la attira o che la colpisce? La sua semplicità, l'umiltà, è molto diretto e sì. E quando tornate a casa che cosa vi riportate dopo essere stati in questi luoghi? Sollievo, come la casa del sollievo della sofferenza. 11 e 3 minuti in questo istante, torniamo insieme in diretta dall'esterno della chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo in questo sabato 14 agosto, appunto, che precede la giornata per eccellenza delle festività, delle vacanze, appunto Ferragosto, come abbiamo detto un po' laicamente, ma domani la chiesa celebra l'assunzione di Maria Vergine. Tanti pellegrini, come potete vedere anche alle mie spalle, che oggi hanno deciso di ritagliarsi un po' di spazio per venire a San Giovanni Rotondo e pregare sulla tomba del Santo di Pietrelcina. Ricordandovi anche che alle 11.30 ci sarà la Santa Messa, che sarà preseduta da Fra Raffaele Maddalena, e questa sera la fiaccolata mariana all'interno della chiesa di San Pio. Appunto, come vi dicevo, tanti pellegrini. Buongiorno, siamo di Padre Pio TV, da dove venite? Da Bari. Da Bari, siete qui in pellegrinaggio? Sì, veniamo sempre a Padre Pio, proprio una devozione che ci abbiamo da tanti anni. Quindi venite spesso, immagino che era ormai qualche tempo, quasi un anno e mezzo, durante tutto il periodo della pandemia, immagino che non siete venuti, quindi tornare è stato bello. Siamo venuti lo stesso, sì. Siccome alloggiamo spesso, vuole che faccia un po' di pubblicità, il Parco Hotel delle Rose, alloggio, perché ci troviamo bene, ritorniamo sia per il sacro, per un po' di felicità. Una parentesi, ecco, che fa bene, come dire, al fisico, ma soprattutto all'anima. Siete già scesi giù da Padre Pio? Non mi ricordo, ma vedo un po'... Ecco, perfetto, da quella parte, così potete... Ma grazie a voi, buon pellegrinaggio, salutateci la città di Bari, guardate, quindi persone che vengono a San Giovanni Rotondo, pellegrini per, ecco, pregare davanti alle spoglie del Santo di Pietrelcina, ma perché no, approfittare anche di questi giorni per ritagliarsi un po' di tempo da trascorrere con la famiglia, con gli amici. E vi consigliamo anche tanti altri bei posti, sul Gargano, posti di mare, c'è la Basilica di San Michele Arcando, c'è il convento di San Matteo, quindi, come dire, un posto davvero da vivere. E allora, noi, intanto, sperando di intercettare, ecco, qualche altro pellegrino, perché ci piace poter ascoltare le loro voci, ecco. Buongiorno, da dove venite? Siamo di Padre Pio TV. Da Biella, dal Piemonte. Da Biella, dal Piemonte, venite, raccontate... sì! Biella, il bellissimo Piemonte, siete... è la prima volta che venite a San Giovanni? Sì, grazie. È la prima volta? Che impressione vi ha fatto? No, la chiesa avveniristica, però bella, sì. Adesso dobbiamo andare a vedere... La tomba, per vedere la tomba. Dovete scendere, naturalmente, a pregare davanti le... Da questa parte, esattamente, sì. Buon pellegrinaggio, salutateci la città di Biella. Grazie, grazie a voi. Ecco, grazie, grazie tante. La bellezza, appunto, di chi viene e magari anche per la prima volta si trova in un contesto diverso, ma qui, in un certo senso, ecco, ci si sente come a casa. Quindi basta chiedere un'informazione anche a noi. Siamo qui a servizio per sentirsi subito a casa. Vediamo, prima di... buongiorno, scusate, siamo di Padre Pio TV. È la prima volta che venite a San Giovanni? Sì, ma... vorrei... Da dove venite? Solo questo. Da Milano. Da Milano, salutateci Milano. Ecco, guardate, quindi Milano, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, pellegrinaggi... Anche dal Veneto, da dove venite precisamente? Da Vicenza. Da Vicenza, venga, è la prima volta che viene a San Giovanni? Venite qua, va bene. No, no, è la terza volta. Terza volta, venite spesso, immagino. Tre volte, due, tre volte, ogni quattro, cinque anni, dieci, così. Venite a pregare sulla tomba di Padre Pio. Sì, anche, ci protegga perché qua è un... Però Padre Pio ci protegge, ha la mano sulle nostre tessi. No, ma c'è una mano grande però. Grazie, buon pellegrinaggio, arrivederci, ciao bambine. Bene, allora, noi a questo punto proseguiamo, prima poi di fare altre incursioni live, quindi ascoltare le voci dei tanti pellegrini, vogliamo, a proposito di testimonianze, come facciamo ogni giorno, aprire le teche di Padre Pio TV e ascoltare un altro stralcio della testimonianza dell'ingegner Gasparri, rilasciata ai nostri... Ah, ok, la regia mi dice che abbiamo gli spot, perfetto, quindi stravolgiamo un po' la nostra scaletta, lì nella regia spot e poi ancora insieme. Ed eccoci tornati di nuovo insieme in diretta, 11.10, proprio in questo istante, a testimoniare che siamo rigorosamente live, volendo utilizzare un termine inglese. Tanti pellegrini appunto che abbiamo intercettato in questi minuti, oggi davvero c'è un gran flusso di persone, di famiglie, di gruppi che hanno deciso di ritagliarsi un po' di spazio, non solo per un momento ecco di evasione dalla quotidianità, ma anche per un momento di spiritualità, per pregare e affidarsi al Santo di Pietrelcina. Tanti appunto, come vedete anche alle mie spalle, i pellegrini e i devoti. Allora, come vi dicevo, vogliamo ora aprire le teche di Padre Pio TV per ascoltare lo stralcio di una bella e intensa testimonianza. Ancora le parole e i ricordi dell'ingegner Gasparri. Ah, a questo frate che parlo delle mie difficoltà, dell'esame, come si chiama il professore? Petrigliani. Ah, gli porti i miei saluti, perché io l'ho fatto fare io commendatore in un'altra non-efficienza vaticana, lui ha risistemato la Scala Santa. Torno in questi incontri all'Università di Bari, il professore le porto i saluti di Padre Mavro. Ah, come l'ha conosciuto? Eh, dico, quando era un ragazzino, cambia totalmente. Una volta che l'assistente per correggere i progetti non c'era, lo manda a chiamare in cantiere, questo torna tutto infuriato, più ti doveva essere lì, poi fa la brutta figura. Per dirle ormai, insomma, sono andato all'esame, così, è uscita fuori una laurea, anche lì strappata perché c'era ormai scioperi in corso, se saltava quella sessione sarebbe passato un anno. Lui ci si va a farcela, ecco. E allora, quel giorno della laurea, ritornavo a Roma, che faccio, ci vado? Non ci vado, ma sì, ci vado. E vengo da Padre Pio, Padre, ho preso la laurea, figlio mio, il Signore ti benedica. Però un'altra volta gli dici, Padre, ho paura di laurearmi, perché io sono molto superbo, lo sono, eh. Tu prendi la laurea, poi il resto ci penso io. E' veramente stato così. La laurea non è una patacca, perché non fiate, è un dono di Dio per servire gli altri. L'Ellacosto vengo qua giù. Ma, 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 facciamo bene. E, vabbè, all'albergo dove stavo c'era una figura di un uomo bello, ai tanti, un po' di questi pure un po', di questi vittoriosi in tutto, che però era stato coinvolto con l'assassino di una, di una, di una donna astriaca. Ma pare c'era in mezzo dello spinale. La piccola aveva sbattuta in galera. Quest'uomo dà gli successi totali in tutto. Allora, questo, andai in galera, con suo amico era andato a Fiareggio, sembra che questo amico, bravo uomo, e lui ha detto, ma, andiamo da Padre Pio. Ero venuti giù, se erano prenotati, però il tempo passava, questo sbagnava, se non andava via. Io capì che dovevo fare in maniera che rimanesse qui. E una cosa è quella, gli suggerivo, ci parlavo, di fare qualche viaggetto, insomma, ora, si è confessato, ma lui non voleva, l'abbiamo accompagnato sulla confessione, è uscito fuori l'uomo piegato. Padre Pio l'aveva mandato via, ma con parole non dolci. E ha detto, vai in pace. Quest'uomo la pace non l'ha avuta. Ha girato, ha girato, ha girato, però strano, strano, morto Padre Pio, un giorno così mi ha raccontato il padre passionista che ha vissuto la storia, è andato su alla Scala Santa, ha chiesto di confessarsi a un padre che andava per la Maggiore allora, molto vicino a Padre Pio, e ha aperto l'anima e finalmente ha avuto la soluzione, i scherzetti di Padre Pio. Noi erano pronti allora, l'ha preparato. Quindi ero qui in agosto, stanno qui, mi sono confessato, e poi siamo venuti via. Poi dico, un po' di ferie ancora, una bella crociera. Rimango una domenica d'estate a casa per cercare un De Pria. Non l'ho trovato. Un fastidio. Ma perché? Ma stava lì, no? Cioè, pazienza. Ero responsabile di un gruppo di De Pria a Roma, allora mi è arrivato l'invito che ci si è stato per il cinquantesimo del Stima De Pria, il convegno internazionale, e lo vado giù. E sono venuto qua giù. Ed è sempre un piacere riascoltare, anche se lo abbiamo fatto tante volte, perché comunque sono testimonianze d'archivio, le parole di chi ha avuto il privilegio di conoscere il Santo di Pietrelcino. Così come è un piacere ascoltare le parole, ecco, in semplicità, in schiettezza, dei tanti pellegrini che vengono a San Giovanni Rotondo a pregare sulla tomba di Padre Pio, a conoscere anche i luoghi in cui è vissuto e quindi il santuario di Santa Maria delle Grazie, la chiesetta antica dove ha celebrato per tanti tanti anni la sua cella, quindi tutto il percorso museale che poi diventa ecco, come dire, un modo per conoscere la vita del Santo di Pietrelcina. Buongiorno, siamo di Padre Pio TV, da dove venite? Da Torino, oggi il Piemonte è presente a San Giovanni Rotondo, è la prima volta, signora? Io so tante volte, dieci volte, venti volte. È devota di Padre Pio? Ah, sì, sì, sì. Devota tante, mi ha dato tante e adesso si muola di terra ancora, la facciamo a tempo, se no come vuole lui, perché io ho avuto tutto e buono, ecco. È già scesa giù a pregare da Padre Pio, oggi? Si deve andare alla tomba. Ah, benissimo, allora la lasciamo? Alla tomba, quando mi ricordo tanti anni. Alla cripta, ecco, bella. Bene, signora, buon pellegrinaggio, arrivederci, grazie per averci dedicato il suo tempo, grazie per la sua presenza all'interno di Padre Pio TV, di questo spazio che appunto vuole essere uno spaccato, una finestra, una vetrina. Sì, signora, guardi, si deve scendere e andare giù in tomba. Anche questo è servizio, siamo, come dire, una televisione a servizio del santuario, anche questo è un modo per aiutare i pellegrini, quindi dare delle indicazioni. Siamo qui apposta, ecco, ci piace anche essere questo. Allora, vi ricordo che alle 11.30 torneremo a collegarci con l'interno della chiesa di San Pio per la Santa Messa che sarà preseduta da Fra Raffaele Maddalena, dunque si parlerà di missioni, queste sono delle giornate dedicate appunto alle missioni. Abbiamo anche, ecco, delle belle famiglie, dei bambini che vengono pellegrini a San Giovanni Rotondo. Da dove venite? da Napoli, quindi il sud presente anche oggi, una bella famiglia, ecco, pellegrini appunto nei luoghi del santo di Pietrelcina. Allora, se abbiamo ancora un po' di tempo, ma forse abbiamo ancora tre minuti, vediamo quest'altro bel gruppo di pellegrini prima che entrate in chiesa. Da dove venite? Da Sicilia. Dalla Sicilia, la Sicilia è presente. È la prima volta a San Giovanni Rotondo? Siamo venuti tante volte. Tante volte. Tante volte. Siete devoti a Padre Pio? Sì. Sicilia dove precisamente? Mazzarone, provincia di Catania. Provincia di Catania, fa caldo in questi giorni, immagino. Bene, buon pellegrinaggio, saluti, arrivederci, anche la Sicilia. Quindi davvero, cari amici di Padre Pio TV, stiamo facendo un viaggio dal nord al sud, passando poi per la Campania e fermandoci anche in Puglia. A questo proposito voglio ricordarvi che questa puntata, ma così come le altre di tempo d'estate, le trovate a partire dalle 14 sul nostro canale YouTube, se magari vi volete rivedere anche appunto come pellegrini, volete rivedere la vostra incursione, quindi a partire dalle 14 questa puntata sarà su YouTube e poi vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, info, chiocciocciola, teleradiopadrepio.it se ci volete inviare una foto di gruppo di ricordo del vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e poi da lunedì anche la possibilità di utilizzare il numero di telefono per parlare con noi, ma soprattutto con la nostra grazia piè a chiedere perché noi informazioni 0882 418380 e poi naturalmente a disposizione le nostre pagine social e il sito internet per appunto ricevere informazioni perché no anche riguardo all'organizzazione del vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Bene, manca pochissimo, dobbiamo fermarci, restituire la linea alla regia intanto appunto i fedeli, i pellegrini proseguono per entrare nella chiesa di San Pio e sicuramente partecipare alle 11.30 alla Santa Messa. Allora, benissimo, ci fermiamo, restituisco la linea alla regia e poi ancora insieme per prepararci alla celebrazione eucaristica delle 11.30. e poi, a tutti i nostri spiegati